Allora ragazzi sto facendo già una partita Allora sto facendo una bella 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 partita Ok bra Edda via Ok allora io sto facendo una partita con Colt pure Ok Già sto facendo una bella partita come Don't Not For You Che avevo detto di fare la partita E alcune volte faccio sempre Ok abbiamo vinto Ok Allora ragazzi Allora dobbiamo fare mille 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 partite Lo sapete perché dobbiamo fare mille 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 partite Dobbiamo fare una marea di partite Allora perché c'è questa Dobbiamo arrivare a 30 E poi non è Allora hai bloccato una soglia di blu Ok cassa enorme Allora Quanto altro? Allora Colt ok Oggette Ok E 0 Ok Proprio non mi danno mai niente Poi Poi allora Poi è 14 E stelle E 0 Anita Che brutta cosa Mi danno Mi danno proprio delle cose brutte Allora Facciamo un'altra partita Va Via Ok 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 dai vai Qua vai Ok attenzione al carrello Via Questa è un'altra partita Mi ha fatto male questa brutta rosa Dove sei? Il primo no E il primo non lo fare Aspetta Devo caricarmi Aspetta Che dove scappi rosa? Aspetta Prendo queste gemme Eccolo Via Ciao pocio E' bello Farti male Sì Aspetta Dove sei? E' il primo Che ti faccio Via Via Ok bene Rosa Rosa Tu proprio Vattene via Guarda questa Che cosa mi ha fatto Non stiamo qua Impalati Nemorosa Dai 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 Non so se la impara Ha vinto questa Squadra rossa Le donne Proprio Selli Ma proprio Le due stelle Proprio Non mi hanno fatto Emano vincere No no E' così Proprio Ah Miglioriamo un po' E migliora E migliora Dai Faccio un'altra partita Ok Allora E' sta Miglia E' sta Ok Miglia Dove scappi? Che sei Miglia Ma guarda Prendile Pozzo Bravo Pozzo Sei il campione Pozzo Aspetta Dove Sto Via Pozzo Aspetta Prendo Questa No Che mi fai? Bravi Dai Dagli un colpo Al fudino Ok Eccola L'ho vista Eccola Vista Rosa Via Ok Via No No Ok Via via 9 8 ok via ma noi abbiamo vinto ok abbiamo vinto si bene ok bene ok vediamo quanto totale ok ok 60 bene dammi una marea ok andiamo dammela ok ok bene ok e stagione precedente è così ah no aspetta devo fare pure vabbè devo fare pure questo vabbè piano piano facciamo sempre queste e va bene allora ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti qui qua